processo per le stragi di capaci e via d'amelio matteo messina denaro non si collega con l'aula bunker di caltanissetta dove stamani era stata predisposta la diretta con il carcere dell'aquila in giro con un coltello nei guai un sessantenne perquisito durante un controllo dei carabinieri della compagnia di caltanissetta controlli sulle strade diversi segnalati all'autorità giudiziaria un cinquantenne sorpreso alla guida in stato d'ebbrezza alcolica un ventenne sotto l'effetto di sostanze stupefacenti la nave delle spose con lucia sardo in scena la storia delle ragazze siciliane che un tempo venivano sposate per procura e partivano per l'america spesso senza nemmeno conoscere il marito stasera alle 21 su tfn antologia reporter i biancardi canicattì catania ipotesi stadio tomaselli di caltanissetta l'ultima volta degli etnei allo stadio di pian del lago risale al 2003 contro l'ascoli in serie b ben trovati processo per le stragi di capaci e via d'amelio Matteo Messina Denaro non si collega con l'aula bunker di caltanissetta dove era stata predisposta la diretta audiovisiva dal carcere di massima sicurezza dell'aquila stamani Matteo Messina Denaro non si è presentato al processo per le stragi di capaci e via d'amelio non collegandosi con l'aula bunker di caltanissetta qui era stata predisposta la diretta audiovisiva con il carcere di massima sicurezza dell'aquila in abruzzo dove si trova attualmente Matteo Messina Denaro intanto dopo la rinuncia del mandato da parte del suo legale lorenza gutta d'auro è stato nominato difensore d'ufficio calogero montante l'udienza è stata rinviata al 23 marzo intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio all'ospedale sant'elia di caltanissetta dopo la segnalazione di fuoriuscita di fumo nero dalle finestre della sala mensa della sala convegni sul posto è giunta anche la polizia l'area è stata posta rapidamente in sicurezza incidenti prima del derby tra Canicattie Licata a Ravanusa tre giovani sono stati arrestati dalla polizia i poliziotti dei commissariati di Canicattie Licata nel corso di un'operazione conciunda hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili dei disordini avvenuti domenica pomeriggio all'esterno dello stadio Sarageno di Ravanusa in occasione del derby a Grigendino Canicattie Licata i tre avrebbero scagliato sassi all'indirizzo delle forze dell'ordine auto in sosta uno aveva in mano una spranca ed erano travisati in occasione della manifestazione sportiva gli arresti sono stati già convalidati dal GIP del Tribunale di Agrigendo ad uno dei tifosi è stato applicato il divieto di dimora nella città di residenza agli altri due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma giornaliera a carico dei tre inoltre il questore di Agrigendo ha firmato il DASPO le indagini vanno avanti per identificare laddove è possibile altri ultras esagitati che hanno lanciato pietre, bottiglie di vetro e spranghe contro le forze dell'ordine in giro con un coltello nei guai un sessantenne perquisito durante un controllo effettuato dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta andava in giro con un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 15 centimetri immediata è scattata per un sessantenne la segnalazione all'autorità giudiziaria l'uomo è incappato in un controllo dei carabinieri della compagnia di Caltanissetta impegnati in un servizio ordinario nel territorio un controllo di routine dal quale è scaturita la segnalazione per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere il sessantenne è stato fermato mentre camminava e sottoposto a perquisizione personale evidentemente dopo aver destato più di un sospetto tra i carabinieri impegnati nei controlli ora sarà chiamato a spiegare anche perché aveva quel coltello con sé nell'ambito della stessa attività di prevenzione dei reati i carabinieri hanno verificato 67 automezzi elevato 5 contravvenzioni al codice della strada identificato 95 persone e sequestrato 3 grammi di marijuana e 2 di hashish controlli sulle strade del nisseno diversi segnalati all'autorità giudiziaria un cinquantenne è stato sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcolica un ventenne sotto l'effetto di sostanze stupefacenti a Caltanissetta gli agenti della sezione volanti hanno segnalato all'autorità giudiziaria un cinquantenne sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcolica l'uomo prima avrebbe provocato un incidente stradale impattando con un'altra auto poi avrebbe inveito contro il conducente della stessa vettura gli agenti hanno sequestrato per la confisca il mezzo dell'uomo al quale è stata ritirata la patente di guida si tratta dell'ennesimo caso in città massiccio nel tempo è diventato il numero dei segnalati per guida sotto l'influenza dell'alcol un fenomeno che non riguarda solo il capoluogo dopo un controllo effettuato dai carabinieri nel territorio di competenza della compagnia nissena un quarantenne si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test anche per lui è scattato il ritiro della patente e l'elenco dei controlli non finisce qui i militari dell'arma hanno segnalato all'autorità giudiziaria un ventenne che si è visto ritirare la patente trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti in particolare è risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi l'assessore regionale Tamaio a Caltanissetta per la presentazione dei bandi bonus energia Sicilia e ripresa Sicilia l'assessore regionale alle attività produttive EDI Tamaio ha incontrato gli imprenditori della provincia regionale di Caltanissetta presso la camera di commercio dove ha presentato i bandi bonus energia Sicilia e ripresa Sicilia l'evento è compreso nel tour che si svolgerà presso le sedi delle camere di commercio siciliane programmato dall'assessore per incontrare gli imprenditori dell'isola conoscere le esigenze delle aziende siciliane e presentare le due misure messe in campo dal governo Schifani Stiamo facendo un tour in Sicilia presso tutte le camere di commercio oggi con grande piacere sono qua a Caltanissetta visto che c'è tanta gente, tante associazioni di categoria il mondo degli ordini professionali illustreremo il bando bonus energia dove abbiamo messo 150 milioni di euro per le aziende e poi il bando ripresa Sicilia che fa parte del pacchetto competitività Sicilia è un modo per far rilanciare le aziende dopo il periodo della pandemia è un modo per stare vicino alle aziende e per dare nuove opportunità per rendere sempre più attrattiva la nostra terra Aeroporto di Comiso, attenzioni puntate sull'autostrada Siracusa-Gela nell'ambito della futura area cargo Si è svolto a Palermo, a Palazzo d'Orleans l'incontro fra il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e l'amministratore delegato di SAC Nico Torrisi sulla condivisione dell'area cargo dell'aeroporto di Comiso Con questo incontro, ha detto il Governatore Schifani facciamo un ulteriore passo concreto per l'avvio delle procedure che portino alla concreta progettazione esecutiva dell'area cargo dell'aeroporto di Comiso Ho mantenuto l'impegno che avevamo preso con il Comune, ha detto il Governatore con la SAC in occasione della mia ultima visita nel Ragusano perché resto convinto dell'opportunità di fare sistema per raggiungere un obiettivo strategico per la crescita dell'economia agroalimentare del territorio ebleo Erano presenti anche l'assessore regionale all'infrastruttura, Alessandro Arrico e il dirigente generale del Dipartimento Salvo Lizio L'incontro che si è tenuto a Palermo ha dato seguito alla visita di febbraio e che Schifani ha fatto a Comiso per un primo confronto con le autorità cittadine e il management della società di gestione dell'aeroporto Siamo al lavoro senza sosta sulle arterie autostradali del sud-est della Sicilia ha aggiunto l'assessore Arrico dalla Siracusa Gela alla Catania Ragusa che potranno essere collegate allo scalo aeroportuale Un'altra grande opportunità è costituita dal fondo da 200 milioni di euro che abbiamo stanziato con l'ultima finanziaria regionale per sostenere i comuni nella fase di progettazione e che potrà essere sfruttato anche a questo scopo Covid in Sicilia, contagi in calo nell'ultima settimana a meno 13,6% tassi più elevati solo nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo Il bollettino regionale relativo alla circolazione del coronavirus continua a raccontare una situazione in netto miglioramento Le infezioni da Covid-19 sono in costante diminuzione in Sicilia in linea con la tendenza nazionale Nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo nell'isola sono stati rilevati il 13,61% di positivi in meno rispetto alla settimana precedente L'incidenza media è di 25 casi ogni 100.000 abitanti Le province più colpite sono quella di Agrigento, Trapani e Palermo Le fasce di età maggiormente a rischio sono sempre quelle fra i 69 e i 90 anni Le nuovospedalizzazioni sono in diminuzione e più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano vaccinata Per quanto riguarda i vaccini i dati aggiornati al 7 marzo ci dicono che i bambini che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione sono il 20,02% Le persone vaccinate con dose booster il 71,23% degli eventi diritto incluso le target dai 5 agli 11 anni Le somministrazioni di quarta dose sono 242.836 delle quali 213.604 a soggetti over 60 Le quinte dosi somministrate sono totalmente 9.872 Osservatorio astronomico sulle madonie intervento del Presidente della Regione Renato Schifani La Regione Siciliana ribadisce la propria volontà di autorizzare l'installazione del telescopio FlyEye dell'Agenzia Spaziale Europea sul Monde Mufara nelle Madonie con la contestuale realizzazione di un osservatorio astronomico Un'occasione di grande visibilità a livello mondiale per la nostra isola che non intendiamo assolutamente perdere Proprio per questo motivo stiamo lavorando per trovare la soluzione idonea La nuova costruzione infatti ricade nella zona A del parco oltre 1850 metri di altezza dove vige un divieto di inedificabilità assoluta prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio Lo dichiara il Presidente della Regione Renato Schifani Per superare questi vincoli, prosegue Schifani il Governo regionale ha proposto durante l'esame della finanziaria un'apposita norma alla cui approvazione da parte dell'Ars in maniera diversa dalla sua originaria formulazione non ha consentito di derogare alle disposizioni vigenti Stiamo già procedendo a perfezionare il provvedimento nel contempo abbiamo avviato anche un'interlocuzione con il Ministero dei beni culturali competente per materia Proprio più di un mese fa avevo rassicurato in Dalsenso il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia sull'intendimento della Regione a trovare la soluzione Le polemiche di questi giorni da parte di qualcuno sono quindi assolutamente fuori luogo e strumentali Salute, Regione e Coni firmano un protocollo d'intesa per promuovere l'attività motoria Il Dipartimento Attività Sanitaria diretto da Salvatore Requirez dell'Assessorato alla Salute e il Comitato Sicilia del Coni guidato da Sergio D'Antoni hanno siglato un protocollo d'intesa per la promozione dell'attività motoria Tutelare il diritto dei cittadini alla salute dichiara l'Assessore Giovanna Volo significa anche educare la popolazione ad abitudini quotidiane sane e a mantenere stili di vita attivi che permettano di prevenire molte delle principali patologie croniche quali malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e tumori Il protocollo che si inserisce nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 e a durata di 5 anni prevede la collaborazione tra istituzioni per la realizzazione di percorsi multidisciplinari e intersettoriali a livello regionale che favoriscano il movimento Secondo il rapporto Passi 2017-2020 Sedentarietà, spiega Requirez il 50,7% della popolazione siciliana è completamente sedentario un valore che supera di gran lunga quello di riferimento nazionale che si attesta al 36,6% Il nostro obiettivo è far sì che l'attività fisica quotidiana inizi a essere vissuta quale momento di benessere psicofisico che coinvolga bambini, giovani, adulti, anziani e persone disabili Studenti del Liceo Sperimentale di Scienze Applicate del Mottura al Polo Laboratorio di Caltacqua a San Giuliano Il Polo Laboratorio di San Giuliano ha aperto le porte per una quanto mai significativa prima volta Protagonisti sono stati 18 allievi del Liceo Sperimentale di Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale attivo all'Istituto Mottura di Caltanissetta guidato dalla dirigente Laura Zurli Scuola, università e imprenditoria fanno squadra ciascuna portando al progetto comune le proprie specificità Le aziende aiutano le scuole a individuare i temi di apprendimento richiesti dal futuro mercato del lavoro offrono agli studenti l'opportunità di verificare le conoscenze apprese in situazioni reali e mettono a disposizione le loro professionalità Sono a oggi 25 gli istituti scolastici di tutta Italia tre in Sicilia che hanno avviato la sperimentazione in questo anno scolastico e altri due, uno in Sicilia, si aggiungeranno nel corso del prossimo Dei quattro istituti scolastici siciliani che hanno puntato sul nuovo liceo sperimentale ben due sono della provincia di Caltanissetta Accanto all'Istituto Mottura figura infatti pure il liceo scientifico Elio Vittorini di Gela guidato dalla dirigente Angela Tuccio La nave delle spose con Lucia Sardo in scena la storia delle ragazze siciliane che un tempo venivano sposate per procura e partivano per l'America spesso senza nemmeno conoscere il marito Si chiama La nave delle spose lo spettacolo è andato in scena a San Cataldo al teatro dell'oratorio salesiano con l'attrice Lucia Sardo una storia che fa tornare in mente il vecchio passato di emigranti ma che fa riflettere anche sul presente sulla drammatica situazione dei deportati del mare degli immigrati della disperazione che fa andare verso un futuro incerto al di là del mare e che getta lo sguardo sul difficile cammino verso l'emancipazione della donna Questa è una storia che tocca tantissimo soprattutto le donne anche gli uomini molti uomini mi dicono che si sono commossi e è andato molto bene che ti devo dire la gente era felice, applaudiva ero felice anch'io c'è stato uno scambio d'amore al cinema il prossimo anno ho due bellissimi progetti di cui ancora non posso parlare io parlerei ma i miei due registi sono scaramantici ho due bellissimi progetti veramente molto molto belli in uno raccontiamo la storia di una donna siciliana molto importante, molto meravigliosa e in un altro raccontiamo una commedia non la commedia comica ma la commedia leggera, intelligente e anche sentimentale Sorelle per la pelle al Teatro Margherita di Caltanissetta in scena Daniela e Lavinia Pupella Continua l'attività teatrale al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta in arrivo Sorelle per la pelle la commedia andrà in scena il prossimo 10 marzo Sorelle nella vita e in scena Daniela e Lavinia Pupella sono le protagoniste della commedia Sorelle per la pelle scritta da Lorenzo Pasqua e andata in scena con successo lo scorso novembre al Teatro Sant'Eugenio di Palermo la rappresentazione nel corso della tournée siciliana sarà venerdì 10 marzo alle ore 21 al Teatro Regina Margherita del Comune Nisseno con le Sorelle Pupella sul palco torneranno Leonardo Campanella e Daniele Vespertino per la regia di Maurizio Bologna a tratti comico a tratte riflessivo le due sorelle Luisa e Francesca gemelli siamesi di padre palermitano e madre francese condividono a 360 gradi la loro vita essendo unito o meglio attaccate nel vero senso della parola per la pelle appunto sono però etero zigote una fa la centralinista erotica mentre l'altra realizza bambole e a un fidanzato ipovedente che è nello stesso tempo il proprietario dell'appartamento le due protagoniste vorrebbero dividersi ma allo stesso tempo hanno paura di come potrebbe essere la loro vita da staccate hanno anche due caratteri molto diversi Francesca è dolce e gentile mentre Luisa è piuttosto sfacciata tra gag che si susseguono a un certo punto si compie la tanta attesa e temuta divisione inizia così per loro un nuovo percorso ma ce la faranno a proseguire le loro vite ognuna separata fisicamente dall'altra? Ti bacio quando torno la storia di Santina Cannella uccisa l'8 marzo 1954 a Caltanissetta nel libro di Cataldo Loiacono e Salvatore Lombardo Presso la sala Borsellino a San Cataldo è stato presentato il libro Ti bacio quando torno la storia di Santina Cannella che è stata uccisa l'8 marzo 1954 per mano del suo fidanzato insieme ai due autori del libro Cataldo Loiacono e Salvatore Lombardo sono intervenute Valentina Matraxia presidente dell'associazione Galatea Ollus e la sociologa Graziella Priulla hanno raccontato i fatti dal punto di vista giudiziario personale, privato e i ricordi di infanzia dei due autori vissuti a Marianopoli nei temi affrontati si sono affacciate tante figure femminili una madre definita vera e propria educatrice civica permanente depositaria di una memoria che andava a tutti i costi tramandata donne vittime di violenza nella storia recente della nostra comunità e Santina Cannella una ragazza che negli anni 50 voleva solo essere libera di vivere la vita che sognava Sport, calcio, Canicattì, Catania ipotesi Tomaselli di Caltanissetta l'ultima volta degli etnei allo stadio di Pian del Lago risale al 2003 contro l'Ascoli in Serie B In casa Catania si avvicina sempre di più la linea del traguardo finale il primo appuntamento con la matematica promozione locri permettendo potrebbe essere la sfida contro il Canicattì con la cornice inedita dello stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta storicamente conosciuto come Pian del Lago potrebbe essere lo stadio Nisse nel prossimo 19 marzo a ospitare l'incontro di calcio Canicattì Catania valido per la ventottesima giornata del girone I di Serie D la società grigentina sta disputando le partite casalinghe del campionato al Saraceno di Ravanusa e in vista del confronto con gli etnei starebbe valutando l'ipotesi di giocare proprio a Caltanissetta lo stadio Tomaselli solitamente può contenere circa 13.000 spettatori ma in questo periodo è omologato soltanto per 5.000 posti nella stessa data era prevista la partita di eccellenza fra la Nissa e il Misilmeri ma l'appuntamento è stato anticipato a sabato 18 marzo per il Catania dopo circa 20 anni sarebbe un ritorno storico era il 2003 quando la squadra rosso-azzurra per i problemi causati dall'eruzione dell'Etna e dal sisma che colpì la città giocò con l'Ascoli nel campionato di Serie B per la cronaca l'incontro terminò con il pari di 1-1 grazie alle reti di Oliveira e Fontana E tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì una veloce perturbazione interesserà l'Europa centrale e la coda di questo peggioramento coinvolgerà in parte anche il nostro paese portando un po' di piogge si tratterà comunque di fenomeni piuttosto fugaci vediamo più in dettaglio la mappa della nuvolosità notiamo come le correnti soffiano sempre da ovest e ci sarà molta nuvolosità in transito soprattutto al centro nord associata anche a qualche precipitazione infatti dallo zoom delle piogge notiamo come soprattutto inizio giornata ci sarà un movimento di piogge rovesci da ovest verso est che coinvolgeranno il centro in parte anche le regioni di nord-est e soprattutto poi l'arco alpino più in dettaglio quindi della previsione che ci aspetta nel corso di venerdì avremo una giornata inizialmente instabile soprattutto sulle regioni del centro sul basso versante tirrenico con acquazioni qualche temporale fenomeni che a tratti potranno coinvolgere anche il nord-est oltre che l'arco alpino come dicevo prima tempo che resta invece asciutto e nel complesso anche parzialmente soleggiato sulla Valpadana occidentale dove la siccità purtroppo continua a farsi sentire temperature che rimangono ben al di sopra delle medie valori attorno ai 18-20 gradi nelle ore centrali del giorno tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno Buonasera via Edmondo De Amicis servizio notturno La China via Fraggia Ratana Buonasera 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 Buonasera